Io credo che l'obiettivo di Putin non sia quello di occupare l'Ucraina, perché ci troverebbe davvero nella situazione che lei ha descritto. Ci troveremmo di fronte a un paese che non sopporterebbe di essere sotto il tallone di Mosca e ci sarebbero fenomeni di guerriglia che naturalmente ne nascerebbero. Fenomeni di guerriglia che potrebbero tranquillamente essere alimentati dai paesi vicini perché ovviamente il confine dell'Ucraina è con paesi che appartengono alla Nato e che comunque possono costituire un ponte per dei flussi di rifornimenti. Cosa accadrebbe quindi? Accadrebbe che il controllo del territorio diventerebbe un incubo per Mosca che non si potrebbe permettere uno stilicidio di perdite che comunque avrebbe. Quindi l'ipotesi cos'è? Una guerra lampo? Quindi io non credo che l'obiettivo di Putin sia questo. Penso che l'obiettivo sia, come è stato già accennato, quello di un cambio di regime, un quizling qualsiasi si trova, non è un problema, che prende le redini del governo di Kiev, giura sulla mamma che non aderirà mai alla Nato e a questo punto l'obiettivo di Putin sarebbe conseguito. Dico sarebbe? Cioè una Bielorussa 2? Sì, ma dico sarebbe perché io non riesco a capire la logica di chi dice non voglio avere la Nato ai miei confini. Ma già ce l'hai la Nato ai tuoi confini. C'è l'Estonia, c'è la Lettonia. Kaliningrad confina con la Polonia e la Lettuania. Nel nord della Scandinavia l'ho visitato io la linea di confine tra la Russia e la Norvegia. E la Norvegia è dal 49 che è dalla Nato. Quindi questa pretesa o è una pretesa... È un falso pretesto. Oppure se è un pretesto vero, davvero siamo diretti verso uno scontro totale con la Nato e quindi l'ipotesi di un conflitto generalizzato. Io aspetterei ad essere così pessimista sulla capacità di reazione degli ucraini. Sono passate poche ore, è stata una questione che ha colto tutti noi di sorpresa e credo che anche molti ucraini siano stati colti di sorpresa. Durante la trasmissione abbiamo sentito che probabilmente le truppe ucraine hanno ripreso il controllo dell'aeroporto. Sì. Il che significa che la capacità di reazione c'è. I mezzi che sono stati dati da alcuni paesi occidentali alle truppe ucraine sono mezzi particolarmente efficaci e possono rendere la vita molto difficile anche per un'operazione come quella che è stata avviata. Io credo che l'esito finale comunque non sia in dubbio. L'esito finale sarà sicuramente a favore delle truppe russe ma il presto da pagare sarà abbastanza alto e quindi bisogna pensare a cosa fare dopo perché nel gioco degli scacchi non bisogna pensare alla propria mossa del momento, a quelle di due mosse dopo.